Mino Borracino, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, al termine di questo tavolo istituzionale qual è il suo giudizio? Un giudizio che si riprende a parlare di cose con tempi certi, la vicenda dell'ILVA non può più aspettare, bisogna dare risposte chiare, dobbiamo incominciare a portare risultati importanti per Taranto, la Regione farà la sua parte come ha detto il Presidente, mettendo risorse ma soprattutto controllando che gli impegni presi possano essere mantenuti.